Venite a ballare con noi. Balla finché, rimanendo ad occhi chiusi, mi dai un bacio e poi ti scusi. Rasta qui solo un secondo in più perché... Sei bravissima? Sono comune! Anche questa! Perfetto! Ma è il look più dolce che abbia mai visto! Ma lo sai infatti che i Maroon 5, quando hanno registrato il loro videoclip, sono proprio andati ai ricevimenti dei matrimoni? Che bello! Ma allora speriamo vengono anche al mio! Quando mi sposerò? Ho un'idea! Io quando dice musica, faccio così. E poi quando fa scompare, io vado via. Come va via? Ma io non sono tanto sportiva. Nien' anch'io! Ottimo! Ma cominciamo bene! Ma adesso devi stare attento a chi sceglierai come coppia preferita. Perché l'altra si scatenerà contro di te. Dai ragazze, non fatemi tornare l'ansia, vi prego! Dobbiamo trovare veramente un look da paura. Che ci renda cattivo! Aiuto, salvatemi! E poi... Guarda qua! Dimmi se non sono perfette! Molto professionale! Mi è venuta un'idea! Ok, tienila in mente, eh! Mi raccomando, non dimenticarla! Vai, al volo! No, vabbè, è stupendo! Perfetto! Il tocco dello chef! Ragazzi, cosa dire se non mi avete fatto venire una fame pazzesca? Ora mi mangerei una torta intera. Anzi, no, no, aspetta! Un tiramisù! Oppure una coppa di gelato enorme, enorme, grandissima! Cioè, capito? Noi balliamo e lui pensa al Bessere! Direi che siamo bellissime, elegantissime e nobilissime! Of course! Ah, ah, ah! Cercasi! Storie dal gran finale! Sperasi! Cerco degli accessori, un buchet di fiori! Queste, queste, queste! Adesso anche vedere gli accessori! A proposito di shake! Ci scegliamo un po'? Tutte? Ok! Ma, mi sembra che abbiate già il feto corto! Ah, non costringermi a farti vedere i miei muscoli! Wow, che forza! Travati! Tieni! Oh! Wow, che bell'angelo, Sofì! Siamo sulla cresta dell'onda! Questo! Giulia! Sofì, devi sapere che io, per imparare il portoghese, ho guardato appositamente una serie tv! Ma l'hai imparato? Eh, no! Però volevo qualcosa di un po' più... Dai, che la sai! Brava, Sofì! Hai studiato questa volta! Da vera strega! Secondo me tu saresti un'ottima strega! Non sto sapendo da un complimento, ma va bene! Allora possiamo imparare qualcosa tipo più meditativo, quindi... Amm... Eh, finisce pure con amm... Quindi, meditiamo! Allora, qua! Un green violino! Trovate uno! Uno! Per me! Katie, io avevo preso la giacca, ma dove la metto? Buttala! Lo so! Aspetta, sto cercando! Eccoli! Lascio libera la mia chioma! Uh, prendi nuovo! Brava! Io ho un'idea! Potremmo fare così! What the... Ti prego non uccidere il nudo! Storie dal gran finale, spera sì! Spera sì! Esatto, come il cercasi, spera sì! Dai, fai un freestyle! Fai un freestyle! Uh, yeah! Le dame con quegli abiti enormi e l'impalcatura sul sedere! Secondo voi ce ne sarà qualcuno nel guardaroba? Non credo, ma mai dire mai! Ah, chi se ne frega dei tuoi ma... Ma, che se... Dei tuoi bla bla! Scusate, non è qua qua questo? Bla bla, qua qua, siamo lì! Se vinciamo questa sfida vestita da chef, ti preparo una cena coi fiocchi! Eh, non mi puoi portare fuori a mangiare una pizza, tipo, cioè... Non ti fidi delle mie doti? Eh, no, in realtà no! E come si dice in Giappone, arigato! E come si dice in Giappone!